Si è appena conclusa la rassegna Cinema delle Terre del Mare, organizzata dalla Società Umanitaria di Alghero in collaborazione con il Comune di Alghero, l'Assessorato alla Cultura. Qui con me è Alessandra Assento, direttrice dell'Umanitaria. Quest'anno sono stati inseriti in programma 9 film. Cosa ha guidato la vostra scelta? Sì, come sempre abbiamo cercato di fare un viaggio intorno ai rapporti che stringono il mare al cinema, ma un viaggio anche di tipo fisico, geografico all'interno dei territori della storia del cinema. Quindi la commedia, film più impegnati, film drammatici, ma anche il documentario, per esempio, come è stato nel caso di Buongiorno Taranto, che ha visto la partecipazione del regista Paolo Pisanelli. È un viaggio fisico dal centro della città a fuori la città, per toccare la maggior parte delle località della Riviera del Corallo, che ha come finalità, certo, indagare i rapporti tra cinema e mare, ma anche promuovere il territorio e tenere conto di quel passato illustre, di quella tradizione consolidata che Alghero aveva nei suoi rapporti col cinema durante il meeting internazionale degli anni 60-70. Quindi, insomma, è stata una scelta motivata, apprezzata dal pubblico, che ha partecipato numeroso ad ogni appuntamento. Si può parlare quindi di bilancio positivo? Il bilancio è assolutamente positivo. Il pubblico è stato non soltanto fedelissimo, ma entusiasta, ha condiviso con noi passione e desiderio di questo percorso e ci ha premiato, tutte le volte ha premiato, una fatica che è stata veramente altissima, grandissima, e che in alcuni momenti ha toccato quasi l'idea di un corso di sopravvivenza. Però, vedere, soprattutto nella giornata conclusiva di ieri alle bombarde, più di 300 persone assiepate sul prato a vedere un film degli anni 50 in pellicola, ecco, è stata sicuramente una soddisfazione enorme per chi si occupa di cinema e per chi ha fatto del cinema il proprio lavoro. Quindi, insomma, è stata una rassegna di successo. Si può già parlare di un'edizione del 2015 e quali sono poi i vostri progetti futuri? Ce l'auguriamo, anche perché il Cinema del Lettere del Mare è nato nel 2009, ha avuto due edizioni precedenti, poi una lunga pausa forzata per patto di stabilità e altri lungaggi, diciamo, dovuti soprattutto a questioni di ordine burocratico. Ha ripreso con queste edizioni, di cui appunto siamo felicissimi, ci auguriamo non solo un'edizione 2015, ma, insomma, una vita lunga per questa rassegna. Quanto ai progetti futuri, ci auguriamo di ripetere la collaborazione altrettanto fortunata con la Generalità del Catalunia, per Catalunia Cinema, e di proseguire la nostra attività di formazione del pubblico attraverso il cinema nella sede della nostra Mediateca.